Il 2 giugno avremo solo una serata danzante di divertimento con del buon cibo e sarà dedicata la sera solo a questa cosa senza andare a toccare temi dell'agricoltura, temi più seri o lavorazioni nei campi. Domenica 3 giugno riproporremo invece la mietitura d'epoca, la trebbiatura d'epoca ed anche la ratura d'epoca se ci rimane un pezzettino di terra perché sono talmente appassionati quelli che la fanno che probabilmente l'hanno già finita di arare e quindi non lo so se ci sarà, noi ci proveremo. Questo nel pomeriggio, sempre alle 15.30-16. Alla sera invece avremo un avvenimento di spicco che è legato al mondo del ballo che comunque fa parte anche di questa festa e fa parte anche di questo impianto sportivo in cui tante scuole di ballo vengono nelle nostre strutture con i loro allievi. Alle ore 19-19.30 verranno due campioni del mondo, Luca Bussoletti e Tiascia Vulic, sono campioni del mondo di balli latini e di balli standard, verranno qui a esibirsi per noi in due affascinanti show. Io invito tutti a venirli a vedere perché ne vale veramente la pena ed è la degna chiusura di questi festeggiamenti per i 70 anni della cooperativa agricola Falcineto e per la chiusura della 39esima festa della mietitura.